Un profondo minimo depressionario sul Mediterraneo occidentale dalle Baleari è in lento spostamento verso Levante. In Toscana, domenica 28 febbraio, tempo perturbato con cielo molto nuvoloso coperto e piogge diffuse abbondanti sulle zone occidentali. Forti temporali su Arcipelago, Livornese e Grossetano. Neve sull'Appennino settentrionale, oltre 1.200-1.300 metri, in graduale rialzo fino ad interessare solo le cime più alte. Venti moderati a rotazione ciclonica, forti con raffiche di burrasca su Arcipelago, Litorale e Appennino. Mari molto mossi o agitati, temperature in aumento su valori superiori alla media. Sul territorio provinciale, molto nuvoloso coperto con piogge di moderata o forte intensità. Allucche sulla piana, temperatura minima 11, massima 17 gradi. In Versilia e sul litorale, minima 12, massima 18. In Garfagnana e zone montane, minima 9, massima 16 gradi. Lunedì ancora perturbato, con schiarite a partire dalla tarda mattinata a pomeriggio e temperature in calo.